Chi poteva rispondere? Benissimo, ma non capisco perché dei miei due gemelli, mentre una la femmina è molto materica, l'altro il maschio, è diventato un mistico. Il gemellologo ebbe una pausa nella sua poltrona. Era conosciuto come un grande fedele, tanto che la chiesa gli aveva affidato alti incarichi nel laicato cattolico. Alzò una mano. Tu sai perché i tuoi figli sono nati gemelli, disse. Una ventata di risposte quasi inutili turbinò nel mio cervello e non risposi. Respinzi quel vortice dalla mente. E chi poteva rispondere? Il gemellologo si trastò la tempia. Tu e la tua compagna al momento del concepimento avete attratto i vostri due gemelli, disse. E i vostri due gemelli sono stati attratti dalla vostra unione, perché i vostri quattro codici avevano forti affinità, altrimenti i gemelli non sarebbero nati come vostri figli. A loro volta i gemelli avevano forti affinità tra loro. Va bene, professore, dissi, ma faccio fatica a credere a questa somiglianza spirituale tra mia figlia femmina e mio figlio maschio. La femmina è molto materiale e il maschio mi sembra un mistico. Al momento dell'incarnazione il maschio era molto affine alla femmina, altrimenti, per la legge divina, non sarebbero nati gemelli, disse il gemellologo. Il maschio poi si è sviluppato tanto da avvicinarsi al misticismo. L'evoluzione funziona così. Quando si impegnava in ciò che diceva, sulla fronte del professore si scavava una ruga profonda. Allora mio figlio maschio al momento dell'incarnazione aveva la stessa evoluzione della sorella gemella. Sì, evolutivamente era molto simile alla sorella, altrimenti non sarebbe nato come suo gemello, confermò il professore. E perché la femmina si è ammalata di Sla e il maschio no? Appunto, perché la sorella è rimasta molto attaccata al denaro e alla vita materiale. Ma attenzione, la gemella si è ammalata di Sla perché era pronta per esperire questa malattia.